Alessandra Celentano, Milano, 17 novembre 1966, è un'ex ballerina, coreografa, maestra di balletto e repetiteur italiana. Dopo una carriera con ruoli da prima ballerina nella terballetto in coreografie di Alvin Ailey, William Forsyth, George Balanchine e Glenn Tetley, lavora con Elisabetta Terabust e Amedeo Amodio e diventa maitresse dei balletti repetiteur al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze. Alessandra Celentano, Milano, 17 novembre 1966, è un'ex ballerina, coreografa, maestra di balletto e repetiteur italiana. Dopo una carriera con ruoli da prima ballerina nella terballetto in coreografie di Alvin Ailey, William Forsyth, George Balanchine e Glenn Tetley, lavora con Elisabetta Terabust e Amedeo Amodio e diventa maitresse dei balletti repetiteur al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze. Alessandra Celentano, Milano, 17 novembre 1966, è un'ex ballerina, coreografa, maestra di balletto e repetiteur italiana. Dopo una carriera con ruoli da prima ballerina nella terballetto in coreografie di Alvin Ailey, William Forsyth, George Balanchine e Glenn Tetley, lavora con Elisabetta Terabust e Amedeo Amodio e diventa maitresse dei balletti repetiteur al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze. Che Alessandra Celentano guardi ballando con le stelle non è un segreto. Lei stessa, nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, lo dice apertamente. La maestra di Amici, tra le più temute da sempre, svela, Certo, io lo vedo sempre. Simona devo dire che è stata molto brava. Lei ha studiato in passato e si vede che qualcosa le è rimasto. E la Celentano promuove a pieni voti l'avventura, ex concorrente di Millie. Poi tuona la danza e amata da chiunque. Poi è ovvio che non tutti sono portati e possono fare i ballerini. Ma come qualsiasi altro lavoro. Non tutti.